Un viaggio molto personale, iniziato in maniera totalmente opposta, perché dopo tre dischi inediti, svariati singoli prima, un EP, io ho sempre raccontato la mia vita, la mia musica è proprio uno specchio, una fotocopia della mia vita privata, mi sono sempre molto aperto nella musica, per questo disco forse mi ero fatto prendere anche un po' dalle paure, da questo vizio che abbiamo di voler piacere comunque sempre a tutti i costi, quindi ho detto proviamo a cambiare, a cantare cose di altri che non siano così profonde, alla fine non ci sono riuscito perché le dieci tracce che insieme a Scott Robinson ho selezionato sono probabilmente tra le più profonde, che parlano di me davvero moltissimo, con lui è stata la vera scintilla per questo disco, sai per me fare un disco non è parte di una routine, non è parte di un percorso obbligato, di un lavoro, io esco quando sono pronto, quando sento di avere del materiale giusto, perché poi i dischi restano, magari adesso restano su Spotify, però quello che hai prodotto e cantato rimane lì, non lo puoi più cancellare, io voglio sempre essere sicuro di aver dato tutto, lui è stata proprio una scintilla, appunto, uno spark per questo disco, anche perché io stavo ascoltando il disco di Demi Lovato, Tell Me You Love Me, quindi mi ero molto ispirata a quelle sonorità, il fatto di avere il suo ok è stato per me, ho detto Dio, che bello, no? Cioè, sintonia totale, come è stato l'incontro con una Skype alle 4 del pomeriggio, che mi avevano fissato la sera prima, non ho dormito tutta la notte, sono arrivato lì agitatissimo, lui tranquillo, io sì sì guarda, però anche se lui non ha scritto tutte le canzoni con me, mi è stato molto vicino, c'è sempre bisogno di qualcuno che ti aiuta comunque a credere in te, non importa quello che hai fatto prima, se sei grande o piccolo, indipendente o meno, quanti dischi hai fatto, il credere in te stesso, nella tua musica è qualcosa di quotidiano, trovare un personaggione così che mi diceva vai, vai, credici, non preoccuparti, vai, di quello che devi dire, è stato davvero importante. Essere indipendenti è complicato, perché hai la responsabilità, il peso di tutto, come hai la libertà di fare tutto quello che vuoi. Io ho molti colleghi che sono firmati da delle major, che magari non hanno la possibilità neanche di andare a cantare per diritto a Lugano. Io invece, è vero che devo trovare dentro di me e nelle persone che mi appoggiano, il coraggio, la forza, la voglia e gli obiettivi ogni giorno, però anche se vuoi la facilità di potermi reinventare e non ho filtri col mio pubblico, non c'è nessuno che mi dice questo va bene, questo va male, non è un fatto di presunzione, è semplicemente il fatto di poter essere davvero me stesso. Mi piace ribadirlo questo perché la mia esperienza discografica non è iniziata così, è iniziata con un gruppo di management molto grande, con una grande casa discografica alle spalle che purtroppo, come succede a molti artisti, mi ha bloccato per tanto tempo e non è funzionata proprio perché non c'era connessione. Io ho bisogno di dire quello che penso, ho bisogno di cantare quello che penso perché il mio amore verso la musica è davvero genuino, a me piace davvero cantare, io non riuscirei mai a arrivare, che ne so, prima in classifica con qualcosa che non mi identifica, è un incubo per me, quindi questa indipendenza ce la sudiamo e ce la teniamo. Il mito americano esiste, adesso è chiaro che io non vivo lì, quindi sicuramente anche molte difficoltà quotidiane, probabilmente non le ho ancora sperimentate anche se non è chiaramente un posto magico. È necessario molto impegnarsi, il lavoro viene ripagato e viene ripagato quello che hai da dire, cioè se hai qualcosa da dire trovi delle orecchie, degli occhi pronti a vederti, ad ascoltarti, a darti una chance. In Italia forse siamo ancora un po' chiusi sotto questo punto di vista, ci basiamo molto forse solamente sull'aspetto televisivo, sui talent, anche in America ci sono, anche in Germania ci sono, anche in UK, però sono un po' più aperti, le domande che nelle interviste mi fanno più solitamente è che cosa vuoi dire con questo disco, appunto chi sono i produttori di questo disco, perché hai scelto questo sound. In Italia alle volte mi chiedono di più gossipate o cose su X Factor, che seguo, mi piace, wow! Però credo sia anche rispettoso verso gli altri artisti, ascoltare, chiedere il perché di quella decisione, perché quando scegliamo un titolo ha un senso profondo dentro di noi, scegliamo una canzone perché vogliamo far arrivare una parte di noi stessi, almeno io. Quindi un po' di differenze ci sono. Il mio sogno più grande è di avere sempre un amore genuino per la musica, perché essere indipendenti ti fa essere anche molto, ti fa carico di tante cose che spesso ti distraggono, a volte ti stancano anche un po'. Il mondo della musica non è per niente semplice, però voglio continuare ad avere questa connessione così diretta, dove mi porterà Sparks e Luthes, spero ancora tanto in giro, anche perché adesso siamo ancora solo al secondo singolo, io quasi solitamente ne faccio uscire troppi, però è perché io scelgo delle canzoni tanto diverse l'una dall'altra quanto importanti, quindi mi dispiace che magari non posso fare il video di Cold Again, che vi invito ad ascoltare, che forse è una delle più intime, o di Therapy, che è la più yeah, un po' USA, quindi se vi fa piacere ci vediamo nuovamente prestissimo e se mi seguite e mi dite quali sono le vostre canzoni preferite da questo disco, io vi dico che cosa ne penso. Perché mi piace molto, io sono molto curioso, mi piace molto trovare delle novità negli altri che poi automaticamente entrano nella mia creatività, sai quante volte, ad esempio Noes No, che è il pezzo che stiamo portando in giro, ha delle influenze reggaeton, che non è musica che io ho sempre seguito o che volevo fare a tutti i costi, però mi sono reso conto che in realtà era ovvio che venisse fuori, perché passando così tanto tempo a Miami, dove c'è reggaeton ovunque sempre, ti sfidano a tirare fuori un pezzo fuori reggaeton, quindi mi piace davvero tantissimo e questo disco, come penso anche i precedenti, sono proprio una testimonianza di questo, sono sicuramente molto coesi, c'è una sonorità di base, c'è sempre un fil rouge, però mi piace molto esplorare, sono così.